Cori, cappellini che volano e urla. Sembrerebbe di stare allo stadio o al concerto di un famoso cantante. Eppure, volgendo lo sguardo sul palco dell'aula Paolo VI, troviamo Papa Benedetto XVI, acclamato dai ragazzi, giunti fin qui proprio per lui. Come ogni mercoledì, c'è stata audienza generale nella Sala Nervi, dal nome del suo celebre progettista. Il suo predecessore, Giovanni Paolo II, è stato molto amato dai giovani. Al Papa tedesco, invece, si è talvolta rimproverato un certo distacco. Ma quest'estate, Ratzinger è riuscito a richiamare migliaia di ragazzi a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. Oggi, in occasione della settimana per la comunione eucaristica nel mondo, il Papa ha ricevuto migliaia di pellegrini, tra cui una rappresentanza degli avvocati romani.